Dopo la pausa per il Giubileo della Misericordia, Papa Francesco ha ripreso le sue visite nelle parrocchie della Diocesi di Roma, della quale vescovo, iniziando da quella di Santa Maria a Setteville, nel comune di Guidonia. Scelta anche per incontrare privatamente il parroco Don Giuseppe Berardino, malato di SLA. Accompagnato dal parroco Don Luigi Tedoldi, il Papa ha incontrato diverse realtà parrocchiali, iniziando dai malati, e si è intrattenuto a lungo con i bambini e i ragazzi della Catechesi, soffermandosi sul significato della testimonianza come esempio di vita. Io posso parlare del Signore, ma se io con la mia vita non parlo dando testimonianza, come tu hai detto, con la propria vita, non serve. Ma padre, io sono cristiano e parlo dal Signore? Sì, ma tu sei un cristiano papagallo, soltanto di qua. Pura parole, 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 eh? Ti ricordi quella canzone, voi no, siete giovani, eh? Sì? Parole, 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 eh? E niente di più. La testimonianza cristiana si fa con la parola, con il cuore e con le mani. Dopo aver incontrato i genitori con i bambini battezzati nell'ultimo anno e i collaboratori della pastorale, il bontefice ha confessato quattro parrocchiani in sacrestia, prima della celebrazione della messa. Nell'Omelia ha nuovamente invitato a dare testimonianza di Gesù, perché questo è essere cristiani e non è come essere tifoso di una squadra. È una parrocchia incapace di dare testimonianza se al proprio interno si insinuano le chiacchiere. Gli apostoli, che pure tradirono Gesù, mai, ha spiegato, parlavano male l'uno dell'altro. Volete una parrocchia perfetta, ha chiesto in chiusura il Papa, allora niente chiacchiere. Se tu hai qualcosa contro uno, vai a dirglielo in faccia o dillo al parroco, ma non fra voi. Questo è il segno che lo Spirito Santo è in una parrocchia. Prima di lasciare Guidonia, Francesco ha salutato i fedeli che per ore lo hanno atteso fuori dalla chiesa, lasciando una consegna che siano capaci di fare di Setteville un quartiere di pace.